se mi dai ciao a tutti i ragazzi ben trovati in questa nuova esclusiva e unica a se stessa puntata di modaci casting no ma come hai fatto a sbagliare talent scout talent scout mario in scouting compagnia di darione di mario sturniolo di poli di viking nascondino perché stavi comprando qui rare quindi api pazienza e per una roba su football manager che dovevo fare se una ragazza andava via non sapevo come fare dopo del impronosticabile marco marco ma non alza un po il volume nanni bravo è il patto di poli poli se spieghi un attimino a se vince le partite eccetera allora che anni praticamente ti spiego come funziona adesso noi faremo questa breve introduzione con il ragazzo che stiamo cercando di capire come si come come si comporta poi faremo cinque partite nascondino se il ragazzo super marco ne vince almeno tre consecutive sarà ufficialmente punto modacier al posto di tizio qualunque ovviamente ma questo riscontato ovviamente chiaro però c'è la seconda regola la seconda regola in cui lui non vinca abbiamo due varie scelte che però non diremo qui perché sennò lui potrebbe trovare un modo di svincolarsi da questi problemi legali che gli procureremo accetti marco però dobbiamo vedere se ci ha installato fortnite hai installato fortnite marco ma si è lo vedi 5 è cross mi sa è cross platform credo simone sei tu quello che hai gli insight sono abbastanza sicuro di sì chat c'è c'è il cross platform si è cross a posto ok alla marco però prima di giocare a forte nascondino con anni mario poli viking abbiamo bisogno di conoscerti un po fammi capire una cosa qual è la tua storia qual è la mia storia giochi a football manager partiamo da un argomento comune videogiochi ti piacciono i videogiochi immagino se è già qua e questo è un punto in più con me si sta allontanando sempre più tizio comunque si sta facendo più strada se sostituisci il ciclo il per forza per me se c'è dentro non serve tanto alla fine abbiamo già un voto su cinque ascolta super marco sai entrare in una lobby di gioco e che è super si chiama cosi è il nickname nanni usate scusate chiami nanni a te il cognome perché sei un cretino una lobby di cosa giusto perché una lobby di tipo di fortnite sa entrare sì e allora già vedi hai già sbagliato però è ha detto per forza una cosa allora super marco ricominciamo siamo partiti con il piede sbagliato nanni ha detto una cosa saggia allora sai entrare in una lobby di fortnite per forza allora buttiamo subito fuori il tizio non c'è nel gruppo è a rischio ovviamente sempre di più ma non è ancora fuori comunque eviteremo eviteremo comunque giornale una domanda super marco cos'hai di fianco a te lì sulla nostra destra no no già capito poi finita la live di solito no tu immagini stream i versi in questa fascia serale suppongo no ecco anche pomeriggio ok finita questa live streaming di questi nuovi amici che si vuole poco fare una dormita un riposo quindi che muori poli spero che muori questa è la lode però è questa è si schippa tutto è quindi dopo la live si va bene e in realtà brava siamo già a due voti pronto è pronto è pronto qui c'è la prova finale ma qui devi conoscere profondamente la lord della tomodash attento è super marco allora che cosa ho già capito ti posso rispondere anche senza per la domanda ok allora la risposta è con an exile no no aspetta aspetta che cosa si apre se vuoi giocare a qualcosa su twitch ma non vuoi far vedere la tua stanza dietro di te bella questa ho capito articolata no questa è molto bella articolata apri 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 dai apri che cosa si apre di solito per celare è un test vai super marco allora ammetto che è complesso no ci pensi un attimo no perché pensi cosa usano nel cinema per gli effetti speciali il screen come si dice ci ho provato lo schermo il green screen bravo è quello apri green screen apri applausi tutto quanto eccolo qua apri green screen dai apri si si è già aperto ma poi è bellissima le molte davvero non ci credo ci ha aperto va bene va bene allora io direi che è già pronto per entrare il tomodashi e forte facciamo fortnite nascondino va bene vai va e no era restare un altro test va bene no voli veramente bravo 4 su 4 dai 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 piano 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 4 su 4 è un ennesimo plus è ancora macchinoso però ci stiamo ci stiamo guarda che ci prende il ritmo sono sei mesi che non ho ancora capito quindi in realtà ci sono un po rimpiazzare ben due posti e di un per forza mario su e di ne uno e di due quando ci sta lo dico ma di super marco posso fare una domanda in realtà un po più legata al nickname come mai super ma che sarà ma per cosa sarà è un qualcosa che gli è stato attribuito da esterni o si è auto attribuito anche perché importante per capire l'ego per esempio no no è più un po più semplice il mio videogioco preferito è super mario quindi mi sono dato super marco a me la mia canzone per figli di super mario è quella che fa parapa 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 va bene dai giochiamo ragazzi super marco di quale videogioco di super ma che boh che gli stavi facendo dire per forza è tutto vero non posso dire niente tutto vero a pro forte nei te gli inculchel per forza to testa di cazzo ma scusa se non per tomo d'asher ormai lui anche se non sa bene nemmeno dove si trova ma c'era che simo maledetto come si è mollato e panetti dove ho scritto detto che c'era matto e chiama dentro apri giocano con un'altra cosa aggiungo la chiamata hanno ma scritto mi sta allungando in studio che non c'è più nel gruppo lui ok nel caso l'ora in caso si può aggiungere dai apri fortnite super marco lo c'è voglia e non sentire obbligato ovviamente se già madonna è già dentro meglio di victor ozzi si potrebbe sostituirlo tra quarti della moda questo sicuro saresti disposto a spendere 50 euro per cona exiles un tuo amico ti chiedesse di farlo 65 65 ma è super marco una domanda da farti super marco una domanda da fare super marco conoscevi già le persone con cui stai parlando in questo momento conoscevo è perché seguivo tempo va marco marco ecco tutto giusto ma che grande gamer no 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 il grado di soggezione che avevi in questo momento magari eri un per forzone guys che vorrei essere un proportion guys ho mai sentito allora io Super Marco ti chiedo come ti chiami su Epic così ti aggiungo Mario 11 non ho capito niente Marco scusami Mario 11 con la K o con la C? con la K madonna che spettavolo incredibile ok proviamo noi mappe spero certo non è ma siamo a disposizione per te quella di Simpson era un po' brutta anche con le sue storie secondo me bisogna trovare quella giusta la nostra preferita a saperla quella che ci faceva a chiudere la figlia quindi ti chiami Mario o Marco? guarda la mia Lobby ti chiami Marco come mi hai detto? sbaglio ti chiami Marco ma il tuo nickname è Mario non ho capito ma perché no? no perché sì sono un po' investite le cose prima era Marco Mario e poi diventa Super Mario sempre per Mario ma il motivo è sempre quello è una persona coerente chi è che ce l'ha però strano che ti chiami Marco e hai deciso di prendere Mario perché ti piace Super Mario ti piace più Super Mario? ragazzi un attimo mi piace più Marco però intanto non c'è molta differenza ma non ti piace più Marco perché pensi parlate ancora del Nick un pochino al volo la skin me l'avete fatta comprare voi cioè per forza ragazzi e chi ha detto per forza? quello nella nave? bellina questa nella nave però si chiama meme si chiama meme yacht va bene dai chi manca? siamo Mario? arrivo 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 sei il primo a rompere il cazzo per il gioco o sei l'ultimo ad arrivare? dio madonna di dio eh perché ho delle buone intenzioni ma sono un tipo lentone 2008 ok beh è un giovine 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 del 2008 è un giovine Marco qui un super Marco è del 2008 certo ho capito un giovine vorrei fare un mio caffettino sono entrato? caffettino yes Sì, dovete premere tutti Pronto Chi è? Porca tra che stupidi Aspetta Aspetta Anche così tanto ridere alla fine Aspetta Non me lo fa fare Aspetta ma 1, 2, 3 Sì, siamo tutti Simone non c'è Ciao io e Puzzite Non riesco a fare ready Non riesco a fare ready Quindi dovevo uscire e rientrare Chissà in quella stanza che puzza in quel cubo Snake solid No, non c'è il puzzo Gatti da bruciare Poveri gatti Ragazzi, non mi fa Non mi esce il Io ci sono, ma come devo fare Ok, eccolo, eccolo A posto, a posto Ready di nuovo, perché sono entrato e uscito io Allora è da fare ready Ripremere ready Ma dov'è ready, dio madonna là? Eh no, devi tornare Clicca uno dei tasti a caso Clicca uno dei livelli a caso Vai verso l'alto Vai verso l'alto Che ti toglie le sue le tue mappe Ah, scusate, sono un coglione Scusate Vai Ok Siamo in 6 Mark c'è? Sì, sì Siamo in webcam Ti raccomando, Mark Senti ti libero sempre Sì, se vuoi inneggiare qualcosa Fai come ti senti No, non era in quel senso L'amicizia L'amicizia che ci coinvolge Che ci lega E che ci legherà in futuro In un grande momento Secondo me potrebbe essere Già più probabile Quell'invito al matrimonio Rispetto a Cassimone Ma spiegagli come cazzo si gioca Anziché dire cagato Ma sei il Gianni No, no, ma Non so giocare 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 No, ma che è terminato Io sono dentro A me sto facendo connexionx Mi sa che è una mappa un po' Ah, il round inizia Il round 4 inizia tra 3, 2 e 1 Sono il Victor Laso della lobby, no? No, sì Ma pure io sono iniziato Ah, ma ok Ragazzi Prova a fare unisci di Mario A me li stai buttando dentro Ragazzi Fermi Sì? Meme added every week Con le faccine con le lacrime Siamo in team a caso Siamo con gente a caso, boys Eh, anche secondo me Oli! Ma che hai fatto? Ma parli Ah, è un piccolo misplay? Che è sta gente? È un piccolo misplay Sì, è stato eseguito un errore Mi sa ragazzi Perché? È perché ha messo una logica Di gente a caso Ma c'è il suono da zoomer Senti da zoomer Sono contro Tobias 1123 Ma anch'io però sono contro Tobias No, ma siamo nella stessa lobby però Sì, ci sono tutti i suoni da zoomer per davvero quasi Ma poi guarda Intorno Ci sono tutti i meme Oddio, no Poi ce ne andremo Da qua Merda, ma ci sono anch'io Cioè Beh, lo conoscele ecco Io ho Motti con Ammon gas C'è un chat da Nanni Vabbè, ho svegliato lobby Poi cambiamo Facciamo questa intanto Ah sì, eccolo Il nerd Oddio Per con lo beauty Ecco Esatto Ma quindi cacciamo Siamo in tantissimi Cuccolo Ok È una nave di COD, no? Ah, ma Nanni Ma sì Tu sei un cacciatore Io ti vedo Oddio, mi sparano No, non iniziate coi fischi, eh, per favore Ma i fischi sono la base, zi Ah? No Marco ci sei, grande? Ma sei in due qua Marco ci sta nascondendo Marco si è nascosto Cazzo, ma non ci ha beccato Ma poi chi è Vulpes? Ma lo rende Sono fortissimi Ah no, l'hai eliminato Sono fortissimi Mario Sturniolo Ma questi conoscono Ma questi nerdano sulla mappa tutto il giorno Eh, ma questi sono pro player Non ho stato ucciso da Mario Sturniolo Marco, tutto bene? Sì, tutto bene Nanni Marco, ma tu nel momento sei un idol No, io mi sto nascondendo Ok, ok Puoi dirmi perché sono lo stai che ti venga a prendere? Oh, boia Ma vaffanculo Perché dove eri? Era la sedia, la quarta Ah, la sedia? Oh no Oddio È stata però la sedia Ma Sì, è stata molto bella la sedia Marco, dici dove sei, dai Eh, mi hanno ucciso No, ma Marco Cazzo, te, ti ho cantato Ehi, ehi, ehi Devi vincere tre partite per entrare in tomodaccio, Marco Sì, tre di fila Tre di fila No, no, non è vero, tre di fila No, tre di fila su cinque game Best of three o best of five? È vero che ha detto tre di fila Best of three, beh, non sai neanche che cazzo vuol dire tu Best of three, best of five Sulla destra, sulla destra è il merda Ti sei riferito a Marco come merda? Poi Marco non preoccuparti Poi Marco non preoccuparti che faremo un game dove siamo solo noi e ci divertiremo molto di più di adesso Ok? Va bene Ok, no, perché magari adesso smetti di divertirti, voglio che tu sappi che ti divertirai No, no, sorriso sempre Sempre Alla base della tomodachi, cioè Ma sai cosa vuol dire tomodachi tu, Marco? Sì? No Ok Ho giocato a scuola Ah, ecco Va bene, non lo sapeva neanche in anni per il primo anno e mezzo, dai Comunque vuol dire amico o amici Amici Sì, perché in giapponese non esiste il singolare e il plurale Infatti lavorano tutti quanti insieme come un greggio di pecore Si va a letto Questa critica sociale? Eh, legomunculus Che vuol dire? Madonna, sei rotto il chiamato con questa cosa Ho capito Un manga un po' alternativa è finita Ma ne manca uno? Sì, è nella parte centrale ma non riesco a capire Ma che c'è sta roba? Ragazzi, dobbiamo ascoltare il ping, il ping Tra tre secondi, due Ma lei abbandona l'obby, dai, ci sono gli stranieri qua No, ma non in quel senso Ok, ok, abbiamo vinto comunque Bravo, Nandi Allora ragazzi, adesso usciamo dalla lobby No, ho vinto Vai, vai, dai È veramente pazzesco È veramente pazzesco Marco! Fu il PS4, ammazzato Dai Allora Marco, questo game non vale Cosa dai? Marco, questo game non vale Quindi se adesso Apre lobby Vincerai Tre game consecutivi C'hai comunque l'invito Ricordati sempre Grazie Giro, grazie Fonte, grazie Lava Che l'invito Sai come funziona? Oh, chiamiamo Marza Ma dobbiamo uscire? Figa Aspetta che sono rientrato Sono un scogione L'invito lo sai che bisogna fare il tatuaggio sulla natica? Per essere ufficialmente Sì, tra l'altro lo devo fare anche io, è vero Mannaggia Marco, non ti farei abbindolare da questa cosa Nessuno di noi ha un tatuaggio Tomodachi Ma è vero, Nanni ce l'ha Immagino che tu mi abbia visto nudo quindi Sono contatto Marza Va bene Ti chiamando Marza? Allora aspettiamo Comunque ho messo la live privata No, vai, 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 vai In partita Vai, 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 vai Vai, 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 vai Allora ragazzi Dovete premere pronto Tutti quanti E buon divertimento Nella nave Grazie Super Swish per il quarto mese Dottor Scrotto Ma questo Naso è gigantesco No, io ci attroppo Dai, Marzo sta facendo un torneo Niente, allora, vai Ma è un naso enorme Fanno un messaggio a fazzone se vuoi Vai 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 Viva la fazza viene subito Lo conosciva la fazza a te Marco Sai che viva la fazza Lo conosci Sì È molto del fazzone Te lo ricordi Quello che ha fatto la clip Dai sì Quello che ha fatto È in vantaggio Dejaillet È in vantaggio Dejaillet Non l'hai mai visto Questo non l'ho mai visto anch'io Che cazzo stai dicendo Mannaggia Vabbè ragazzi avete sbagliato Mannaggia Inizia Tieni premuto Sì Dovete premere invio No devi farlo tu che sei il lobby leader Sì l'ho fatto io L'ho fatto io Ok Buon divertimento e buon nascondiglio Dai Ma basta Ma è Marco che ci cercano No sono hunters Dario e Marco sono i cercatori Marco carico eh Bravo Marco così si fa Dai Stai nascondendoti oppure no Dai Marco Marco fa vedere le valli Ah no sei 16 anni scusa Marco non ascoltare queste parti di Dario Ogni tanto parla a caso ma non ti preoccupare Basta No 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 c'è capito tutto Pronti Va beh io sono pronto dai Vabbè io zio ho vinto 100% Dai Marco chiudi le live Ti ho visto che ce l'hai aperta Dai no Viking è quello eh No Ah giusto è vero È vero è vero è vero è vero Anche volendo usare una live esplode il computer Sono grande Vabbè Super Mario è normale che sia un grande Vai Allora Marcone mi raccomando il ping C'è le cuffie mutate bene? Qual è il tuo main su Tekken Marco? Lui gioca a King Lui gioca a King Non giochi chi ha il Tekken Non so i personaggi Non ci sta Preferisci Aduken Attenzione O Pugno Ma che cazzo Porca troia Mi avevi quasi illuso Poli Dovo dire Aduken è Street Fighter mi sa Aduken è Street Fighter sì Marco succhiami le palle non mi troverai mai Dai non c'è bisogno No è Modera È toxic ma Nanni è buono È brontolone ma è buono Vabbè che è anche se fosse Ma anche Qua stessa è 14 Ma perché abbiamo messo 15 minuti di partita Poli ma che cazzo è combinato? È la mappa che fa Le gags Ma figa 8 minuti e mezzo 8 minuti È 8 minuti di game Va bene No Sono troppi Sono 5 persone di merda Che hai trovato? Marco Eh Nessuno Nessuno Ho sentito però Che cazzo fa? Ho sentito Ho sentito Dai fischiamo Fischiamo Un po' di fischietti vai È fischietto È vero Marco Ah dai Cazzo fa l'esame Ho visto Come fai? Fai bene Dai 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 Allora se vuoi ti dico Che io ho visto uno Trasformarsi in una bottiglietta Dai Martti Sembra lo yacht di Call of Duty Qual era? Motto for Black Ops Black Ops Black Ops Black Ops C'era il costalato Della gente Vettare i Claymore Meridosi Sì sì Dall'inizio il Tom Hawk Mi ricordo Hey Jack Sì Grande mappa A due B.O.2 Non di grande mappa Matti Perché se vuoi fingere Di giocarlo in blind Magari È bella questa Eh ma io e Mario Sono da causa È un casino Marconi Te come sei messo Amore? No ma Marco Non è il nuovo Dada Ragazzi Dovresti non chiamarlo Amore per favore Dario Dario Magari si sente In disagio Dario io sto fischiando Se mi sentite Uccidetemi È tipo Dada però Baby version Quindi deve ancora sviluppare I vari Urli Baby Dada Mi piace Baby Dada Dici che Baby Dada A livello 6 Impara per forza Tipo come prima Esatto Esatto Livello 6 per forza Livello 10 urla Livello 40 Subs E se È la skill finale No tipo A livello 16 Comincia a chiamare Non indistintamente Le persone Dice chat Direttamente Chat Involgere la chat Così è un po' troppo E se intanto Voi ridete Scherzate Qua è l'unico Con la fidanzata Che sta scopando A quest'ora Coglioni Ma che cosa vuol dire Da queste cose A quest'ora Cia dormirà da 9 ore Non è che Prima lo difende Dice che è troppo E poi Si accoda pure Terribile Si fa il letto Basta No no Io ti voglio Morto ti voglio Zampaiò Si sblocca Ti do le vie di casa Vieni qui Ma si può aprire Questa zona Sì E sulle porte Ho tirato un fischiettino Io Madonna ma qui è pieno di Roma Come fai Dai Bombe Grai le granate Dario le granate Come fai fai bene Hai detto come fai dai Volendolo fare Granate Tanto ne hai un botto Di granate Ho capito Ma tu ma Si ali Madonna che cazzo Era sto rumore Oddio Marco Va a trappare il culo Bravo Mark Ma Ha trovato Ha trovato Il Nannoner Ha trovato Il Nannoner Ha proseguito la sniperata Ma Nanni che ha fatto in testa da Marcone Ha caccato in testa da Marcone Attenzione Seguendo la sniperata Come va Perché comunque ti viene voglia Marco ma caffa Vabbè Ho sentito un altro Sì Eh sì Merda Marco è un cacciatore Cacciatore di feste Lo sento sorridere Tra l'altro è perfetto in Tomodachi Perché fa come Mario Sturniolo Cioè quando a tryhard Non parla più Quindi C'è anche quel tono È da queste parti Dai Questo lato Forse è sopra Ma chi Mario No è quell'ultimo Che si nasconde Ma si è Mario Poli Io Io sono Vivo Io sono ancora vivo Mario Uno è nella coda Uno è nella coda La coda Ma è un aereo Cazze Ma vedi che quattro minuti Sono troppi Ma vedi che quattro minuti Sono troppi Ma in realtà Sono tre vivi Sì ma come si fa Qui a capire Cazze Aspetta è ping Ma è ping Eccolo E' questo maiale Questo maiale Cosa è successo C'è uno sgavello Che corre Ho sbaglio È bello È tutto tipo Di partire dalla nave È interessante Però King Mario che ci prova Guarda che Mario Comunque Marco Ti insegno una cosa Dice a poppa O a prua Capito? Per le navi Marco Sei Capito Marco Scusa Perché non è vero Che ti ho rubato Il portafoglio A Romics Non è vero Non ho rubato Il portafoglio A nessuno Io Due minuti e quarantasei Viking Come sei messo Ma chi manca Il poliard Io sono fiero Io sono fiero Del mio nascondiglio Però se rimango Però se rimango Da solo Ma tu di quella merda Di bocca Che non stengo T'ho sentito T'ho sentito E' ancora al bar Ah bello Che viene il tramonto Anche Se rimango da solo Si capisce dove sto Ed è un casino Azzere Allora siamo in due Ah ma ho capito Marcone Ciao Shamsi Shamsi grazie No Shamsi Grazie mille Grazie davvero Adios Ma fa culo Nanni di merda Pollo Come pollo Era un nascondiglio Stupendo Che pollo Come esegui Esegui bene E cerca Marco E basta Come esegui Esegui bene Ah no Sono io manco Sei rimasto tu Ma come ti ha preso Dove cazzo eri Ero nel Ero nel condotto d'aria Ero una bottiglietta grigia Su sfondo grigio Ero Ma non ci sono più ping Ero E' finita Come ci sono più ping Come si fa No vabbè Impossibile No non mi troverete mai Senza ping Impossibile Cioè anche Aspetta Prova affanosa Che avevo fatto io prima Vediamo se è così Fio di puttana Giocatore in Nascost Uno No vabbè No Dopo cambiamo mappa Impossibile Sì ma non ne mettiamo Ma è una che fa popò Che fa popò Dai Poli Dai dove sei Poli Dai Eh sì Impossibile saperlo Un'indizione Un'indizione Merda Nadio solo Che c'è un problema Eh beh Siamo vicini Ma ragazzi Perché mi ha tolto Sì ma perché mi ha tolto Il nascondimento Godo Godo Così che ti ha tirato Una granata Ho visto un'occasione Il tubo Ho detto Fazzo mi ha risposto Ma va a cagare Grazie di votare Grazie a Sene Ma si è alzato i piedi da solo Io non stavo neanche toccando la tastiera Marco come stai? Tu bene? Ti sei divertito? Aspetta Usciamo dall'olio Marco Super puzzone Marco Per favore Aspetta Pronto? No 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 Questa faccata Live map Live map Live map Ritorniamo alla lobby Ritorniamo alla lobby Marco ti sei diventito? Usa Usa No per forza Dovevi dire Marco Ragazzi Io vorrei far notare una cosa Marco ha vinto il primo Otario dei tre game Ordo lunga Vabbè che c'entra Ordo lunga Che significherebbe che cosa? Che c'entra Da cacciatore non vale Ha vinto una causa Molto importante Ma no da cacciatore non vale Poli del Poli quiz show Del Poli beat down Della Poli Roma League Metto Playground No questo è impossibile Metto SpongeBob Giocato da 200 player Sembra Non sembra malissimo 200 player 200 player 200 giocatori Se preferite Dai andiamo Pronto SpongeBob Aspetta che arrivo Nel culo Arrivo Arrivo nel culo Sì sì No perché mi ha chiamato Chi? La mimà Eh certo Il nonno Nanni Nanni Il nonno è stato chiamato al fronte Nanni Nanni Ma quale fronte? Nanni Nanni Ponte comune Nanni Il gay lord Nanni Grazie Samu E credo Mario Sturniolo Può essere Io sono pronto Io sono pronto Nanni Nanni Mi sa è Dario allora Nanni Io ci sono messo pronto Ad assami Marco Marco ci sei? Io ero da far caffè No ne mancava Marco Ci sono Ci sono Ti fai il caffè a mezzanotte e mezza Poi ti lamenti che dormi alle 7 della mattina Nanni Che fa' E mi sono svegliato alle 5 Che tanto vado a letto comunque alle 6 Ai minimi storici siamo Marco Io ti chiedo ufficialmente scusa da parte di tutti Marco ma c'è 16 anni domani c'è a scuola Sono mezzanotte e 16 Non vado più a scuola Perché non vado più a scuola? Quel verso Tipo un attacco Senti un attimo ragazzi Perché non vado a scuola Marco? Vattene a parlare L'ho lasciata a TNQ di quest'anno Ah ma vedi lavori Vuoi lavorare? Non dite in culo No cioè adesso no Stai già Sì Siamo io e Mari a cercare Ma fermi un attimo Noi stiamo già giocando Ecco l'hai tirata sull'albero Mario Torco dio ma serio? Come spesso? Serio noi stiamo già giocando Io no io sono spettatore Perché? Anch'io siamo Io e Dari siamo spettatori Perché? Cazzo vuol dire? Oh? Oh non era un'opera? Non so Dice un peta C'è un tetto Ci facciamo uscire da sopra bro Ma perché? Eh no c'è tipo la fine della mappa Eh no 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 C'è il tetto C'è il tetto Ma si è aperta? Ma quindi me lo stiamo giocando? Ah ma perché è due contro due Marco Ma no ma era una mappa da due Ci c'era scritto Ma quindi non studi Non lavori cosa vuoi fare? Che succede? Ma cos'era questa nave? Ponto! Che succede raga? Quindi dobbiamo uscire? Eh beh Non lo so Vedete voi? Eh sì sì Stiamo giocando in due Siete due contro due Non so perché Sebbene il game Che sono i due? Io e Io e Marco Nascosti Ok Marco Contro Ma poi prima di confermare una mappa Puoi controllare le regole Ci c'era scritto 12 player Allora abbandono io Vabbè abbandono Abbandono E' una bellissima questa tra l'altro Infatti mi piaceva Comunque io Mettiamo dai voti Io considero questo game vinto per Marco Eh no Dopo che hai detto Quello che hai detto prima No Io no Uno pari Ok E' vero Francesco Che esce un nuovo trailer di Sparky in Zero Oh raga Ma tra i giorni esce Esce il survival Quello che vedemmo un anno fa Alla conference Sì sì Rondine Ma quale quello là Indie E' quello tipo steampunk Con le creature fantasy Ah e'm Vaporu Groswood Vaporu 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 Il 20 di febbraio esce Ma ne hai metto uno Un secondo fa No no Non è vero Nightingale Dici Nanni Fammi vedere Giocatori attivi 14 Massimo giocatori 24 Vai Dei due 20 player Questo si chiama Table prop hunt Questo è bellissimo Questo sembra molto giocattoloso Sì sì Va bene Comunque Nanni Nanni dici Nightingale Sì sì Quello Nightingale Il maton No Nella maratona Di Dario Un anno fa Con Dada No con Dada Aspetta ma Simo ma è quello che C'è già il multiplayer Che viene rilasciato Con la premium edition E tu sai già Del fatto che C'è anche il battle pass Perché hai inventato Queste parole A casa Marco Chi è il tuo Spreferito Della domodachi Fino ad ora Comunque si dice Il tuo meno preferito Comunque Non spammare la macchina Di caldo Marco Chi è il tuo Meno preferito Scusami per prima Della domodachi Non è un membro No 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 Marco Chi ti fa via Sanremo Grande Marco Keep Cinematic Io sono morto Ma niente Keep Cinematic Ma perché Porca madonna Perché non mi fa giocare Io sono morto Keep Cinematic E anche Poli E anche Marco Quindi cerco solo io No ma non stiamo proprio giocando Non stiamo proprio giocando Marco ce l'hai CTR? Crash Team Racing Sì sì ce l'ho Sei forte a quello Top 3 Sì Attenzione È da difficile Grazie Beh è un ottimo inizio È un ottimo inizio Niente Poli Non Ma ragazzi Cioè Veramente Usciamo vai Alla sta mappa È bello ma Ma secondo me Sei sicuro di non impostare qualcosa Aspetta aspetta Fermi che non uscite Non uscite State giocando in due Come Aspetta Aspetta Ho capito Vuole risettare la partita Si ammazza e resetta la partita Sì posso ma ho finito le munizioni E non ti ucciderai mai di caduta Vabbè Niente Esca Raga non c'è Veramente C'è scritto dai 2 ai 24 Non c'è scritto niente Unlimited Guarda Marco che cammina Il track Tra i tuoi Perché ragazzi Se non Voi sapete qualcosa in chat Perché fa così Cioè raga Veramente Però vedi che c'è Sopra pronto Comunque Sopra pronto C'è scritto Partita privata Squadre diverse Sì ma Partita privata Squadre diverse Prop Hunt E vado a prendere banalmente La mappa dell'altra volta Vedi le stesse cose Vedi Marco Vuole dire che facciamo il supermarket Facciamo il Va bene va bene il supermarket Proviamo il supermarket Vediamo se funziona Ci vai al cinema te Pronti Oh Non tantissimo Non tantissimo Vabbè Faccio pronto Sì 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 È il supermercato Questa è la prima che abbiamo fatto Raga veramente Non so che cazzo Succede Ma tranquillo Matti Sicuramente non è colpa tua È colpa tua eh Hai sbagliato credo eh Marco Supermarco Dovrei dire Secondo te Qual è la cosa che ti manca Per diventare un mega Marco Ma mega è meno di super Puoi far rispondere Marco Che è un ragazzo molto timido E vorrei Vorrei una sua risposta Per favore Dio cane Scusate 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 Non so cosa mi manca Per diventare un mega Marco Potresti essere obbligato Da me a rispondere A questa domanda È una domanda? Vi ho fatto entrare? Sì E purtroppo Sei obbligato Marco Cosa ti manca Per diventare mega Marco Non lo so cosa mi manca Marco per favore Ho bisogno della risposta Marco per favore Rispondimi Qual è il tuo fungo? Marco Cosa ti manca Per diventare mega Marco? Basta Ti sta pensando Mario un attimo Marco Cosa ti manca Per diventare mega Marco? Io e Marco Ci sta pensando Merda Merda Nanni che cerca Un tryharder Del cazzo Vabbè Senti i suonini Che gioco Che devi fare Senti i suonini PING 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 Oddio Come Stai aiutando i gridi Vittorio Marco Non ci credo L'hai aiutato Credo che sia vera questa cosa Sì Hai aiutato i gridi Vestito da Miroslav Clothes Cosa? Sono Marco Royce Dai Scusa Bocca al lupo ragazzi Buon divertimento a tutti i cacciatori No Evviva Ma perché sto sempre il cacciatore? Vabbè Adesso ti nasco il Dio di merda Stai full trollando nel cacking Marco C'è nessuno No no A me non c'è le punte Marco Cos'è debba Per diventare mega Marco Basta Hai rotto il cazzo Ti ho detto basta Gli stai dando fastidio anche te Mi sa Goto Allora per mega Marco Aveva bisogno di dirmi basta Per diventare mega Marco Dici? Sì Doveva dire di no a qualcuno E l'ha detto a Mario Storniolo Eh già Io ho ispirato sicuramente Ho sentito qualcuno Eh sì Da questa parte Marco ti piacciono le pistole che sparano? No Per me sono puntualmente divertenti nei videogiochi Anche se maledettamente pericolose Maledettamente Ehi Scusa Piano con questi rumori eh Secondo me Top nascondigli questo Ma che è successo? Ha sconfitto Viking Ma che è successo? Ma mi ha tolto da solo Io ero fermo immobile Stavo muovendo solo la telecamera Parafuenza Parafuer Va bene 5 minuti e 40 Grazie Giorgia Per i 1300 abbonamenti regalati Non è vero Non è vero Non è vero Marco io voglio farti una domanda invece Quando io mi gaso Dico Sberrà Tu hai un'espressione simile? Una cosa che quando ti gasi La dici che non è normale? Sberrà? Io dico Sberrà No Ma perché non mi Marco stai cominciando a farmi arrabbiare No Non mi piace niente Ma non mi fanno il suo Ma non mi fanno il suo Ma non mi fanno la pazienza Ma è una domanda Cioè Non è una domanda Cosa fai quando ti gasi Mi piace questo viaggio Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Ma non faccio nulla Quando mi gaso Lui non si gasa Non mi ne Non si gasa Marco te ti vedo Un tipo molto stoico Cioè molto rilassa Sei una persona rilassata Nella vita? Abbastanza No Mario Ce n'è uno qua vicino Come cazzo hai fatto Mario? Bravo Mario Stavo muovendo 5 secondi 4 Attenzione Udito Marco È molto bella Comunque È veramente molto giga È la prima che funziona Anche perché non c'ho le granate È molto semplice Tipo Non è un equivalente di Sberrà Tipo Nacht der Runtoten Non so se avete presente Ho sgamato Sì sì L'abbiamo capito Simone Grazie Impossibile rimanere vivo Con 4 minuti Con 5 cacciatori Già moto Comunque Ti nascondi sempre bene Poli Devo dire È rimasto Nascosto 4 anni Su Twitch Con Airsten Interessante questa Verissimo comunque Niente a dire Io sono a 8 anni And counting Però non sono così talentuoso 8 anni and still fucking count Aspetta 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 A 2 minuti e 50 1 Se riesco ad arrivare A 2 minuti e 50 Goderei Ma mi sa che Stai difficile Tipo qua Da queste parti Seng Sentino quell'altro Con il cucchiaio in bocca O la sigaretta Non riesce nemmeno A mappoggiarlo Perché devi sparare Ma dove cazzo è? Ma dove cazzo è? Ah Qua No Che cazzo è stato Quella roba lì? Ma posso sapere Chi è? Piero Fasulli Quale era il lord Dietro Piero Fasulli Non lo so neanch'io Allora ragà È qua In mezzo ai tavoli Qualcosa Sì sì è qui È qui Sì sì è finita ragazzi È finita L'Ital Come su Arston Di nuovo 2 minuti e 30 Più che sufficiente Dai Già soddisfatto Fischia un po' Ha fischiato eh Eh già Boom Eh già Godo strano Stai perato Coglione Scherzo 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 Ma non sono in stream Marco come ti è sembrato questo round? Come hai fatto? Bello Bello È il secondo game Gli manca il terzo e ha vinto Adesso abbiamo un problema Cioè Ti ho mai fumato la marijuana? Ecco A 16 anni Non può dire A 16 anni Mario Hai qualcosa contro di me Marco? Vedi che io non ti ho fatto nulla No no ma Perché ce la dovrebbero avere contro? Eh Perché sembra Perché sembra che tu Mi risponda malo Malo? Malo Malox Malo ha detto Marco mi hai costato Mi hai appena costato Marco No no Ok ok Allora Senti Posso farti un'altra domanda Visto che siamo amici Mamma mia Eh Sentiamo Ti piace Ti piace Un unico sesso O ti piacciono tutte e due In un ideale di masturbazione? Ma perché? Unico Unico Un E quale? Il femminile o il maschile? È l'unile Il femminile ti piace? Sei un eterosessuale cisgender? No Vabbè Che c'entra? Non è così? Come che c'entra? Perché Ha 16 anni di chiedere una cosa del genere Mario Sturniolo Ma si ha detto che mi piacciono le ragazze Ma vedi se puoi cagare il cazzo Ma non ho capito Sì va a letto Ascolta Marco Tecnicamente puoi denunciare Perché hai 16 anni Quindi ti molesti Se puoi Io non l'ho molestato sessualmente Io vengo a testimoniare Marco Chi è che caccia? Io Io E? Non so bene a nulla caccia Mario? Mario e Dario? Io caccia Io caccia Quindi talent scout Prop Sì 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 È sempre un tryharder incredibile Marco cosa ti piace? Questa è da denuncia Che voce? Questa molestia Questa molestia sociale Non è vero Non è vero Non è vero Marco Anche questa molestia Dove sei? No nel gioco eh Nel gioco Cos'hai addosso Anche teoricamente è giusto Marco ti sto venendo a prendere Basta Mario No nel gioco Nel gioco Nel gioco In game Si sta nascondendo In game Ma buono Hai visto come ce l'ho lungo Questo fucile Marco Marco Marchino Senti Marco Preferiresti essere Marco 89 Nel senso il nuovo Zebo O Marchino il criminale Nel senso di food vlogger Madonna Uno bravo Non No Ma che cazzo fai La butti al di fuori Dell'altro putto No vabbè Siamo veramente Indecenti Boh Quello ride Mi ha fatto molto ridere Come l'hai detto Che cosa? Volevo aggiungere una vocale Una lettera alla fine Ma poi ho cambiato idea All'ultimo Che Mario sei qua Anche Sto cercando il ping Ok zitto Potresti cercare nel puzzo Ho sentito lontanissimo Però l'ho sentito Marco dove sei? Aia Aia Ci siamo Oh 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 Fischia fischia Marco se mi fai dieci sub gift Fischio tre volte di fila Vabbè Ma Marco A Mario gliel'hai detto No a Marco A Marco Che cazzo fai Dario Stai col carrello Sì sì Ma poi per favore Per prendere tutti i suoi nemici Siamo serio Dai dai Fischiamo un po' Dai fischiamo un po' Io sto fischiando spam Ma tanto Non sono direzionali Sono dei fischi eh Io sparte Io pure Zurca Marco Fai spesa dai Quattro minuti Oh Mario di solito sei un cacciato Oh è mister carrello L'eroe della maratona Mister carrello Mister carrello c'è Mi spieghi una cosa Mario Fermati no Zitto no Fermo 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 Senti il ping Dimmi dove lo senti Poi a destra o a sinistra Ok A letto Oh Non hai sentito Devo dire che mi hanno distratto i ragazzi Dai Vavani un attimo Ok Se no ho toccato a bannare Poi purtroppo No vabbè Non mi ha Ci ha provato un anno Io l'ho sentito a destra Non so te Azzè Lo so È troppo lontanga 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 Sì ma se ha detto Fai spesa dai Vuol dire che erava In questo corridoio Oppure sta stili sniperando Stili sniperando Mi fa male il fancino Azzè Vuol dire che sulla tazza Del puzzo Guarda che formaggiozzo Ho proprio voglia di bere Del buon latte Bella questa Ho proprio voglia di bere Del buon latte Eh si vede Shanna nel secondo schermo live Di Kasumi Sand No Che sento Ha previamente Manifed Voh Battuta fatta la poli Tra l'altra c'era No non è vero Io solo Tre volte Perché la gente Non l'ha sentita Ma non è assolutamente vero Vero Non è vero Eccolo fischietto Due minuti e venti Saltano Non c'è la protocollata E' bello Protocollata Dai basta Esci lobby Dai No 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 Allora Allora Nanni Fai una filastrocca Che racconta dove sei E cosa sei Bello questo Bello questo La filastrocca Praticamente si rima Vai 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 No 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 In tutto quello che vuoi Sei libero Mi fa male il pancion Ho cacato nel puzzon Vabbè Bella questa Interessante Dove sarò mai andato Se non al cesson Un po' dentro al cesson Guarda li guarda li guarda Che bei contenuti comunque E' indagato Un minuto e trentacinque Ah però avete capito Allora vuol dire che mi hai visto Quindi il puzzon Aspetta Zero su zero Scusatelo Sono un bardo Che canta Ehi Non nominare i bardo Se no Tocca citare Il signor wolf Wolf il lupo Poli dove cazzo vai Poli Poli Pezzo di merda Poli che cazzo fai Poli Mi piace molto il rischio Oddio 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 Dove l'hai sparato Un anno che l'ho visto Era qua Era qua Era qua Ma scusa Marco Marco dov'è Bibi Hai praticamente condannato Anche me Poli Marco 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 Eh no Dico Dacci l'indizio Spara bene un po' Dici Marco Ma dove l'ha battuta sulla tele Capita quella di prima Oddio Oddio Marco E' da queste parti Dario Marco 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 Ci dai un indizio Dicevo Eh vabbè l'ho visto prima però Simone Mi sono dato di fiare Porca troia Mi metto filastrocca Marco Chi è che manca? Introduce una filastrocca Capire dove sei e cosa sei Però si vago Mancano tre secondi Mario Sturniolo Cioè non Ci ha distrutto Ci ha cacato nel volto Eh sì Ha vinto Grazie Grazie Matita Grazie Bevanda Cambio mappa Dai il volo Cambio mappa Non puoi dire per favore In realtà è Bella Seba pacca Non hai sbagliato A fare la buona Oh ma viva la fazona Ti ha risposto No non sono tre di fila Ragazzi Ma va cagare Due sì Non sono tre di fila Ma due sì Cambio mappa Live lobby Live lobby Dai una cosa un po' Sulla frena Qualcosa che Una mappa Una mappa normale Capito Dove ti puoi benitizzare Non sa più parlare Ufficiale No non sono tre Perché non vale Se inizia come cacciatore Ragazzi È impossibile perdere Allora Prop Hunt Andiamo a giocare Per il tizio Prendi la sesta Ma Dark Fantasy Dici Willy Dici che bella Dark Fantasy Spargle No è Max 4 giocatori Willy Max 4 Marco Mi dici Anche se non lo conosci Cosa ti viene in mente Se ti dico Ma sei fanculo Con i Willy di merda Oh Non ho sentito la domanda Allora Ti è interessata Allora Io ti dico Si sta parlando del tizio Qualunque Quindi adesso tu mi fai Un identikit di questa persona Non conoscendola Marco Però un attimo Marco Mentre tu ci pensi Io vi chiedo Ma cosa state facendo voi Che io non siete In game Allora Marco Ti ripeto la domanda Per favore Il messo è buggato Errore nel matchmaking Ok Adesso è pronto Premete pronto Tutti e sei Cominciamo Prego Marco Marco Hai avuto modo di ragionarci 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 Sì ma sentiamo Sì ma sentiamo È vero Come ti scriveresti Ti scriveresti Un tizio Il cui Il primo è il tizio Qualunque Però non parliamo Che Marco è furbo E approfitta Delle nostre parlate Ma poi si chiama Marco No sper Marco Si chiama Super Marco No sper Marco Super Marco Nessuno l'ha detto Questa cosa mi sa Non l'ha detta nessuno Nanni Dunque Prego Marco Partiamo dall'aspetto fisico Come ti aspetti Il tizio Qualunque La persona Normale Fisicamente Fisicamente Normale Allora Siamo Fisicamente Normale Ma cos'è la normalità Ma è fatidigliela Oddio Fisicamente Ma come fai A trovare cosa Cazzo Di un cazzo Di un cazzo Beh niente Volevo fa una osa Ma è impossibile Il popone Senza dirlo Scusami Altro Grid Dittato Ha gridato ancora Di Nermuso Proprio È gigante sta roba Ho visto qualcuno Di già Grande Ecco Sì Ho capito Marco Ma vaffanculo De Non hai perato Ha preso dare mossa Non hai perato Sì ma io 20 secondi Ma come fai a nasconderti Eh Ficato Questo è difficile Però hanno solo 5 minuti Loro per vincere Non c'è il ping Tra l'altro Azz Beh cioè Cioè io l'ho sentito No non c'è Io lo sento però Lo sento Lo sento Sono cacciatore Ma come cazzo fai Marcus Come ha fatto Mario A tutte le live Aperte contemporaneamente Ma anch'io Ho sentito il ping Com'è possibile Che lo senta io Ma non I cacciatori Comunque questo è difficile Comunque questa sarebbe La terza vittoria per Marco Che entrerebbe ufficialmente In tuo modaggio Attenzione perché Pollino 2376 Primo messaggio in chat Ma Dario perché gioca A 60 fps Cosa vuol dire Eh ma da Vikings Sono tutti molto specializzati Nei videogiochi Nei fotogrammi No io non sono live Questa è nella chat di Dario Io non sono live Guarda mi sclusa Guarda mi sclusa Marcone Senti Ah non si Ah ma aspetta Ma sono sempre Due i cacciatori Marco Qual è la voce Tra questi nostri amici Della Tomodashi Che ti ha ricordato Più tuo padre Nessuno Cagato in testa Qui mi sa Minchia per farvi ridere Ragazzi Ci sono veramente Quelle tre parole in codice Eh sì certo In codice Funzionano sempre Guarda veramente Tira usa tutti gli strumenti A sua disposizione Un pazzo Guarda 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 come tryhard No non sono Viking Blaze Scusa Io sono nascosto Che stream sniperando Porco No no Che cazzo stream sniperi Che stai Che sei nascosto Sto leggendo la chat Sto leggendo la chat 3 minuti E 20 Minchia quella scopa Eh la fulminata Mi sa Un erro di quello Ma che skin è questa qui Di Batman Sì Sì Batman sì Scusa Batman sì Un simbile senza ping Distrutto eh Comunque Simone Vikings Tu vedi per caso Senti Cosa cosa Stai cercando Fermi Fermo Ma poi Viking Ma che cazzo ti succede Che hai fatto Viking Aspetta Oddio Viking che cazzo fai Simo Mi sta attaccando Simo Simo Le nuove moschette Che cosa Che cosa Che cosa Come cazzo fai Sei ancora vivo Perché sono il re dei videogiochi Per Dio Ma sei ancora vivo Oddio No Eh si è andato Eh comunque Dopo che si è proclamato Il re dei videogiochi Ha perso Finché non si era Proclamato tale Ma il mio nickname Mario Sturniolo Viking Tu sei vichingo Gioca No non sono vichingo Sono videogame King No 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 Te sei vichingo Gioca No No io sono al massimo Quinto re gioca Se proprio volete No no te sei vichingo Gioca e basta Non è vero mai Hai sbagliato Del marketing sbagliato Vabbè È voluto È doppio È la natura È la natura Di sì Vabbè A caso vai Ehi Dario Un po' meno Ah sì Un po' meno io Oddio oddio Marco ha fatto il moonwalk Il pene Ma è impossibile Senza ping Ma come ha fatto A trovare viking Prima senza ping Zica E' un rotolo di carta igienica Come cazzo ha fatto Ha un rotolo di carta igienica Gigante però Sì appunto Come fa Eh ma comunque Io Ma è impossibile Senza ping Ragazzi Ti lascia fa Marcone Vai che lo sa Lui Ma è portare cappello Vero Marco Per forza Oh Madonna Ha imparato tantissimo In una sola sera Attenzione Sta roba Ha perforzato Marco Perforzato sì You have been Per forza Ragazzi Dai Super Marco Ma tu sei Di Tu appartieni A A questa Parla un po' Analfabeta Al volo No Non chiamarmi così Dimostra Fai parte di questo territorio O fai parte di altre onde Che cazzo vuol dire Cosa Non ho capito la domanda Fai parte di questo territorio O fai parte di altre onde Cosa vuol dire Penso che Si è una scusa per dire D'altronde Si Lo era Lo era Sparato a tutto Come fa Non tutto tutto Dieci Nove Chissà Io sto spammando R Ma non si sentono i fissi No ma sono dall'altra parte rispetto a voi Marco hai vinto un panino alla sborra Complimenti No Grande Marco Buono S confitta Volete che Abbandoniamo No 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 La facciamo S confitta Ma quindi Aspettate ragazzi Ma Marco ha perso La sua terza Vittoria Si Eh allora purtroppo Ma come ho fatto a trovare Mazzarico Purtroppo al massimo Può entrare nella me la godo adesso Si Ti stanno grazie qualunquattro Mi dispiace Però cacciamo lo stesso tizio qualunque No si bro io lo puoi di far l'hunter Che palle Ma si può sapere come cazzo si fa A scegliere in dieci secondi Ti dai cinque mila euro Sei diventato modashi Ovviamente Puoi giocare una volta all'anno però Figo Porca troia Marco Sei interessato? Marco No Non ci giochi No non lo è Non lo è Non è morta chiocciola Io sono Tremendamente fiero Del mio nascondiglio Sono grande te Cazzo Mamma mia guarda Mamma mia guarda Mamma mia guarda Apri green vai Si è già aperto Aprite Non più Purtroppo Non era Non più Non più È stato troppo forte È tecnicamente vero Tra l'altro Cioè tu sei arrivato a un livello Dove sei abbastanza forte Da dover imparare A giocare Quindi non puoi più giocare a caso Sì ma sai qual è il problema Simo È che Dovrei Cioè sarebbe più carino Se Trovassero un modo Per insegnarti le cose E non che vai nel menu E Vedi La combinazione dei tasti Dove Che palle Cioè fai una sorta di mini storia Che ti obbliga a fare delle combo Qualcosa del genere Qualcosa di più interattivo Io ho capito Se intendi Perché sennò veramente diventa Ok Devo fare questa stringa di codici La devo imparare a memoria A farla nel momento giusto Però Non lo so Un po' noioso l'apprendimento Eh picchia duro Si va E rompere un po' tutto il cazzo Però poi Peccato Perché poi alla fine sono divertentissimi Anche quando impari a fare Una mossina del cazzo Il senso di progressione Arriva da quella roba lì Purtroppo Ci sta che non ti piaccia Cioè lo capisco Sai cosa mi ha distrutto La voglia Le combo Che Per far iniziare C'è bisogno del movimento Tipo mentre ti stai alzando Appena ti sei alzato Che c'hanno dei timing Veramente Noiosi Marco Se cosa ne pensi picchia duro Oddio Sono belli picchia duro Ok Invece di più morta Simone Dimmi Mario Invece noi quando facciamo Il tanto rinomato Appena finisce questa live Appena finisce questa tomodachi Eh no Ci dobbiamo organizzare Per la prossima settimana Senti sto scrivendo Sott'agra Tutti i cazzo di giorni Porco Ehi Non ho detto niente Non ho detto niente io Io se volete Mi offro volontario Come manichino del coaching Beh vabbè ci sta Mario ma dimmelo tu Cazzo Eh ma è impegnato Tranne venerdì La nuova schedule E' stringente Comunque No 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 Simone Ti voglio fare Non l'ho sentita bene Va messa dopo su Football Manager Cosa? Su Football Manager Lunedì Lunedì Eh Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere A che ora circa? Mi sta impegnando Il pomeriggio Ci dovrei essere Ci dovrei essere Che c'è la gotta Lunedì No? Eh La gotta ancora Non mi ha dato Non mi ha dato la data Vabbè si chiude vai Irrilevanti Via Ah dai Eh Irrilevanti Quando diranno la data A quelli che Dovrebbero presentarsi Alle loro cose Vabbè si c'è Sì Sicuramente Sì quello è vero È vero Vabbè Tutti picchiaduro Se sei sullo stesso livello Soprattutto Sì Già se giochi tipo Contro Simo Fazzone Zazzone C'è Ho capito Prendo un personaggio diverso Da Steve Sono Veramente espastico Cioè Non c'è problema Prendo un personaggio diverso No Max Non la faccio più La gotta È troppo impegnativa Mi hanno detto Cosa devo fare Non ce la farò mai No Gladius Non penso proprio Cioè Devo andare a fare mille trasferte A Milano Niente camoranesi Dario No ma poi dovevo C'è un po' di robe O Merda che peccato Dimmi tu ste non è Giustamente Oh Mario Lunedì pomeriggio Ci dovrei essere Ti dirò A me piacerebbe bro Perché avrei bisogno Di un paio di dritte Dai 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 Stai giocando Mario Sì sto giocando Però Ho iniziato Dragunov Adesso Sto imparando Un po' di King No ti prego King no Perché Perché Tutte le prese King è un po' Come giocare King è un po' Come giocare A solitario In un gioco Di società È bruttino A me Io sono Era un main Mardok Quindi mi sembra La cosa più simile Eeeh Purtroppo Allora sì Cioè se facevi già Schifo in Tekken 7 Sì In case Li facevo Incazzare tutti Ma Dario Noi stiamo giocando Seri tipo Boh Cazzo ne so È impossibile Fischiamo un po' Dai fischiamo un po' Poli che cazzo stai facendo Poli No Poli 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 Per piacere Poli Poli per piacere Poli Poli per piacere Poli No No Oddio Come fa a non vedere Dove sei? Non t'ho visto Poli Dov'eri? È un rotolo Igenica di fronte a te C'è un rotolo gigante C'è un rotolo gigante C'è un rotolo gigante Io ho letto Cambio mappa No basta Mi sono rotto il cazzo Ma no Ma perché devi essere l'ante? No zì Perché non mi garba Cioè mi garba Nascondimi Ma noi in 26 anni Allora Allora Dai Cambio mappa Liv dai Facciamo questa Vediamo un po' No 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 Liv Io ho livato Facciamone una più lunga Facciamone una più lunga Unisciti Unisciti Ma che fai Livi? Ok sono io il cacciatore adesso È perso Malissimo 20 secondi Andate via Dai dai Nascondigno Sì ma tanto È impossibile trovare la gente Comunque Dai Tra i yard Simo Simo Oh beh Bon Bon Dai Sperrà Vai Vai Parti via Fu Grazie Simo Per i 5 cazzi Grazie Grazie Spankop Ilajim Spacewall Luca Man Mondo Cittademi Patria Bevanda Matilda Tomben Gabri Picci Mattia Punza Ok qua dentro non c'è niente mi sa Poi Oh ma c'è un omino che si muove C'è un omino che si muove Prendilo Prendilo Marco Marco Poli l'hai preso L'ho colpito una volta Marco Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua in piscina Bravo Godo 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 Mamma mia Che sniper Marco 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 è ben nascosto Ma perché ti sei nascosto Ti sei mosso te Fammi capire Marco Dai Dai però Non esageriamo neanche Stiamo attenti Marcone Brè Sì però Io non ce la faccio più Via Alt F4 e via Nol No sì Nol Nol Aspetta aspetta Che ci deve essere un ping Ma perché ora ci sono i ping Scusami eh Ogni tanto si sente un ping Ma non c'è il countdown Ma ci sei pensato il ping Marco In caso un ascolto Marco scarica il CTR Marco Ma ce l'ha detto Eh beh ce l'ha installato Non credo No voglio continuare a pizzapesso Vuoi dare un segno di vita Per favore Marco Marcone Sì Ah ok perfetto No il CTR ho fatto tutto Ragazzi ha platinato Cioè tutto Ah platinato alla fine Sì sì Pazzo Chi era il tuo preferito di Sanremo Marcone Gli avessero già chiesto Ha detto che non l'ha visto Sanremo Io non sento il ping Marco Mi dici il tuo Sto sentendo neanche un po' di fischi Un po' di fischi Un po' di fischi Non capito Il tuo pokemon di prima generazione preferita Non guardo Mario ma che cazzo stai dicendo Che c'ha 16 anni Non guardo Ma il pokemon di prima generazione Era 40 anni fa Mario Ma che stai a dire Marcone mio Marcone mio Allora ti faccio un'altra domanda Se è per te Ok Ma no Sì va bene Bastire Magliela Perché sono in ansia Marco Allora Il tuo frutto preferito Qui io sono allergico sicuramente Allergico Quindi quando ti dicono tanti anguri E quando è il giorno del tuo compleanno Tu sei contento Perché speri in delle reali anguri Stai ragazzi io me ne vado dalla chiamata Dai No Dai vai Abbandonare l'obby al volo E via vai Dai dai vai vai dai Dai vai vai dai Siamo alla fine Dai 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 Non sto trovando nulla io Non c'è il ping Non c'è un cazzo L'unico che hanno trovato Su io Dio Chris No anche Mario Ping Ping Chiudi fuori Ed è anche Qua Circa No Vale Non abbiamo fatto domande sulla sborra E su cazzi Quindi non credo che tu No però vi tuppanino la sborra Che può riscattare il nostro Marco Disinstalla vai No 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 Non disinstallare Grazie c'è già anche Siamo alla frutta Poi Daniel Anche te Veramente Ma ti sto seguendo da mezz'ora Porca troia Quasi jumpscare Praticamente Sembra un cosmo Il microfono che stai Non c'è mica l'inquadratura dietro eh In questo cazzo di gioco Ma c'è una pallina blu in terra Che dovunque ti spostavi era dietro di te Marco ma c'ha fai No ma Marco Ma c'ha fai Grazie a raga Vabbè king of shit Mi si è messo girato Dai Il re della merda Cioè addirittura No Non è troppo Dario se ci sono problemi con il sito panino Riesco a preordinare Ai 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 Pico Il libro tecnico Io l'ho sentito qua Nella parte della piscina Ok arrivo Questo è quello che posso fare Un po' di fischi Un po' di fischi Simo c'è un utente su twitch A cui hanno dato una sub Che si chiama Sì Viking gay porn 22 È il tuo secondo account È quello con cui È presente tipo L'account secondario Tipo Poli pure lo fa Tranquillamente Poli ma è venuto fuori Qual era il tuo altro account Con cui scrivi Nelle nostre chat L'urido bagnale Ahia Anzi guarda Tipino questo Che ancora me Si silenzio Non ha risposto Guarda che non risponde Lo voglio anch'io Poli Ehi E mi muto per sentire meglio Dimmi Ho detto È venuto fuori poi Qual era il tuo nickname Col quale scrivivi Nelle nostre chat Di nascosto No Ma perché hai davvero Lo smurf con cui Sì sì Avevo Avevo Ma tra un paio d'anni Lo uso Sì sì Sei un coglione Tanto da te Sono bannato Simo Ma mi hai bannato Perché avrò sbagliato Scrivere C apostrofo Tipo No È un problema Per fare un matrimonio Cos'ha Anche male Non lo sapeva Vai Mi faccio Prince of Pest Grazie Frost 2 Ah Quindi si finisce Vai Sì 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 Quindi io Alla cosa delle angurie di Mario Ha tolto proprio tutto Ha tolto È calato un po' Light No no ci mancherebbe Dario però Prima di andare via Marco Ciao Marco Alla prossima Ciao Marco E divertiti Ciao Marco Mi raccomando Va bene Va bene Ciao Ciao Marco Grazie Ciao Ciao Marco Ciao Marco Ciao 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 Marco Ciao Ok Ma quel vabbè era perché era deluso dal No ma è timidissimo Cioè è di una timidezza assoluta È normale Per cui Cioè chi si è Vabbè stai zitto dai Vado in mezzo al vento Ciao ciao Grazie Ciao 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 ciao